Buonasera popolo di Facebook, Youtube, Twitter, Messenger, Filippo e anche Instagram Siamo qui a casa di Anna Facciamo gli interviste perché domani ci abbiamo una città spettacolo Allora vogliamo fare i saluti a un ragazzo che sta venendo fra poco Un altro due giorni, domani no, dopo domani Il nostro ciro, ora vediamo la moglie che dice La moglie Vai Diti qualcosa Diti qualcosa Ti amo, non vedo l'ora che Ma ti dici che domani ti prepari tutta la lottata? Domani mi preparo Bravo ti riditti, guardate che bomba che c'ha Ok andiamo dalla nostra Patizia Patizia ci fa male lo so Poi c'è una pomada che si chiama Sperma Life Tu la vuoi? Oh fratelli La vuoi? Non si do la pomada No grazie Ok, sei un po' triste? No no, sono felicissima Sicuro? Si E perché sei triste? la ragazza che ha sorpreso tutti, la padrona di casa, Anna Lucchella stai aspettando a Ciro che viene per fare una bella festa, domani cosa ne pensi? domani dobbiamo, domani ci sferiamo, sta un'altra mia amica, ora andiamo a vedere, ora andiamo a vedere, c'è la nostra, Pina, anche così con la mano, non ti mettere scuola in delle camere, dai, non gli vuoi dire niente, Dani vuoi dire tu qualcosa? ha preso ucciso, ho detto già abbastanza, vuoi dire qualcosa? no, non puoi bene indirizzare niente, stamattina cosa vuoi dire? si è sconvolto lui, è sconvolto lui, è sconvolto c'è anche Yolanda, la notapienta è laèsa di Yolanda, dici qualcosa, ti chiamo, a te c'è una notap dynasty, ti chiamo, c'è una notap testa, sono ci chiamo, Vigo, Ciro ti aspetto, amore, amore.. c'è un bacio di me ciao a chiapete ciao a chiapete saluta a tua madre tonino ti amo tonino fa figlio figlio dai 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 niente tu non parlare vai figlio tonino dai 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 se le 1500 è buono se non ce lo fa figlio